Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero «Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto «Non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui». «Lo sposo è colui a quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. «Ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece diminuire». «Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. A chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui, infatti, che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Parola del Signore. Il profeta Isaia è spesso impegnato, come nella pagina che abbiamo ascoltato oggi, nella prima lettura, a destare, chi lo ascolta, alla consapevolezza della vanità del loro culto. Questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca, mi onora con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me. Il culto che mi offrite, dice il Signore attraverso il profeta, è vuoto. Perché dentro quei gesti, in quei riti, non ci siete voi. Non ci siete davvero. Non c'è la vostra carne, il vostro sangue, la vostra passione. Non c'è la vostra vita dentro quelle parole, dentro quei canti. fate del culto, dice il profeta, un imparaticcio di progetti umani, una poltiglia insopportabile. Voi non siete davvero in quel che fate. Bocca e labbra, parole e suoni della voce da una parte, ma il vostro cuore profondo è altrove. E siccome il Talmud dice, il Dio non chiede che il cuore, eh, qui c'è un problema. Quello che Isaia condanna riguardo al culto di Gerusalemme è il dramma di ogni vita umana, è il dramma di ognuno di noi. Il rischio della vita nel suo complesso è che possiamo vivere una vita senza viverla davvero. Avere sempre il cuore altrove rispetto a dove siamo, rispetto a quello che viviamo, il cuore altrove. Ci sono altri passi di Isaia dove il profeta recrimina alla gente che lo ascolta. Oh, ma voi vi rendete conto di quante volte dite, ma quando è che passerà il sabato, la festa? Adesso sì, siamo qui a celebrare il rito, ma quando passerà il sabato? Così potremmo tornare a vendere, imbrogliando il prossimo, imbrogliando sulle bilance, vendendo il povero per un paio di sandali. Quando passerà il rito? Eh, vuol dire che siete lì a vivere il rito, ma non siete lì veramente. Nella vita ci capita di spendere del tempo in quel mormorio interiore, no, faticoso. Quando cambierà questo aspetto della mia vita? Quando troverò un altro lavoro? Quando sarò guarito da questa malattia? Oppure peggio, ah, se io avessi fatto scelte diverse, se avessi scelto un lavoro diverso, una moglie, un marito diverso, se i miei genitori mi avessero capito di più, e così rimandiamo la vita, no? A più avanti, a quando le cose saranno diverse, allora sì che potrò cominciare a vivere. C'è sempre quella storiella dei padri del deserto così bella, della zuppa e delle cavallette, no? Ve la ricordate? Questo monaco anziano che dice al monaco giovane, guarda, io una cosa ho imparato nella vita. All'inizio, quando ero giovane, se mi cadeva una cavalletta nella zuppa, vivono nel deserto, no? Buttavo via tutto, cavalletta e zuppa, mamma mia, per carità. Poi sono diventato un po' più grande e ho cominciato a tirar fuori la cavalletta e a mangiare la zuppa. Poi, diventato adulto, ho cominciato a mangiare tutto, cavalletta e zuppa. Che è un bel modo per dire, noi diventiamo maturi quando accettiamo anche gli imprevisti e accogliamo quel che c'è. E allora la mia vita diventa, sì, la zuppa, con dentro anche la cavalletta. Va bene, imparo a starci dentro, a nutrirmi di quel che c'è. E il Signore, dice Isaia, è all'opera per guarire la vita disintegrata, non integrata nelle sue parti. È all'opera per guarire la vita vissuta solo in superficie, senza l'apporto della profondità del cuore. Quella vita, vissuta sempre come se si potesse solo sopravvivere, no? O fingere di essere vivi, facendo le cose solo in punta di vita, per così dire. Come solo con l'estremo lembo del nostro amore. Quella vita lì, vissuta così, è come una vita cieca e una vita sorda, dice Isaia. Manca di qualcosa. Ma io, dice il Signore attraverso il profeta, io vi darò il mio spirito. Vi renderò partecipi della mia vita. E allora il vostro cuore si desterà e comincerà ad abitare davvero i gesti, le parole. Comincerà il vostro cuore ad esprimersi nei vostri gesti, nelle vostre parole. Non ci sarà più labbra e bocca da una parte e cuore dall'altra. Diventerete una cosa sola. Udranno in quel giorno i sordi le parole del libro. Liberati dall'oscurità delle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Comincerete ad abitare i vostri sensi e a diventare vivi per davvero. È bello, no? La parola del profeta ci fa desiderare diventare vivi per davvero. È vero? State dormendo? È vero? Ci fa desiderare di abitare la nostra vita veramente. E non soltanto dire, eh, se le cose fossero diverse. C'è la cavalletta nella zuppa e impara a mangiare quel che c'è. Che bella quella poesia di Fernando Pessoa. Regaliamocela ancora. Se vuoi essere grande, sii intero. Non esagerare e non escludere niente di te. La cavalletta nella zuppa. Sii tutto in ogni cosa. Metti tanto quanto sei nel minimo che fai. Come la luna. In ogni lago tutta risplende perché in alto vive. Che bello, no? Se vuoi essere grande, sii intero. Non esagerare, ma non tagliar via pezzi di te. Ecco, Giovanni il Battista ci racconta nei Vangeli, è stato un uomo così. Sii tutto in ogni cosa, dice Pessoa. Giovanni il Battista è stato tutto dentro il suo ministero di essere colui che prepara la venuta, la strada di colui che deve venire. Tutto dentro il suo ministero di precursore. Viene uno dopo di me, che è più grande di me, più forte di me. Io vi battezzo con acqua, ma questo vi battezzerà in Spirito Santo il fuoco, capito? E così Giovanni il Battista dice, io non ho il potere di rimettere i peccati, di guarire la vostra vita disintegrata. Non ho questo potere. Non ho il potere di guarire la vostra vita ammalata dalla patologia del cuore altrove. Ma il mio ministero serve a dirvi che viene uno che vi amerà al punto da riconciliarvi con la vita così com'è. Per darvi la forza di metterci mano alla vostra vita e di occuparvene davvero. Così diventerete uomini e donne integri. Perché se vuoi essere grande, lavora per essere intero. E da cosa riconosciamo una vita umanizzata, una vita che sta imparando ad essere viva per davvero? Da cosa lo riconosciamo? Da come quella vita accetta i suoi passaggi e le sue trasformazioni. Da come accetta di cambiare. Giovanni Battista è l'uomo da cui i suoi discepoli vanno dicendo Eh, rabbino, non è giusto, eh? Quello che era uno dei tuoi discepoli, questo Gesù, che era uno dei tuoi e a cui tu hai dato testimonianza, adesso è dall'altra parte del Giordano che battezza pure lui. E vanno tutti da lui. E non va bene. Perché ti deve soppiantare? Perché deve prendere il tuo posto? Diventa più importante di te? E Giovanni usa l'immagine dello sposo e dell'amico dello sposo, no? E dice, ragazzi, lui è lo sposo di Israele. Io sono l'amico, il testimone di nozze. Ma al centro della festa c'è lui. Lui deve crescere. Io devo diminuire. Io ho finito il mio compito. Giovanni è sulla soglia del declino. È ancora giovane, eh? Ma sa di aver imboccato già la via del tramonto. Tanto è vero che pochi mesi dopo verrà arrestato e poi ucciso da Erode. E Giovanni dice, guardate, io ho vissuto con intensità il mio ministero di apripista, di precursore. Ho illuminato le ombre del mio tempo, ci ho provato, tutto raccolto nella torcia ardente della mia parola. Ho cercato di essere come la luna che in ogni lago tutta risplende perché in alto vive, dice Pessoa, no? Io ho cercato di essere tutto raccolto dentro la mia vita. Ora che il sole del Messia sorge, è il tempo che la luna tramonti. Ma anche il tempo del tramonto è un tempo da vivere pienamente, dice Giovanni, no? Da abitare intensamente, da abitare con il cuore, non soltanto con le labbra e con la bocca. Anche il tempo del tramonto è un tempo da vivere non in punta di vita, ma con tutto me stesso. Anche il tempo del tramonto vuole consegnarmi il suo tesoro, la sua ricchezza. Noi diventiamo integrati quando vediamo che viviamo i vari passaggi della nostra vita, i passaggi di trasformazione. E quindi, in conclusione, amare la vita nella sua natura di intreccio, di tempi di fioritura e di sfioritura mi permette di vivere intensamente quello che mi è dato adesso. Sono radicato qui, il mio cuore è qui, non altrove. Voglio imparare fin d'ora a vivere davvero, con tutto il cuore, la mia vita, così com'è, ad accogliere la zuppa e la cavalletta, per non tagliare via nulla di me. Perché questo mi rende grande, dice Pessoa. Questo il Dio vivente vuole fare di noi, in questo. Il Signore ci accompagni. Grazie. 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 Grazie.